Ciao a tutti ragazzi, io sono Forem e benvenuti con la continuazione di Naruto Storm 4 Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto la via della separazione Che abbiamo visto la storia, come è andata con Hashirama e Malara Come sono conosciuti e che cosa è successo prima che loro combattessero E adesso faremo verso il campo di battaglia, la forza dei Taka Io devo iniziare ragazzi Ah... Now that's a sight for sore eyes I knew it was you, Sasuke! Cutting I thought I sensed your chakra, so I busted out of jail to come and check How dare you betray me like that? Why Sasuke? Once he took you hostage, you became a burden I'm never gonna forgive you for what you've done Sorry You think sorry is gonna cut it after everything you've put me through? I... 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 You good for nothing? I see you're as weak as always when it comes to Sasuke, Karin Judging from the color of her hair, she must be from the Uzumaki clan Sure brings back memories My wife was from that same clan Much as I enjoy hearing my brother reminiscing, save it for later Hmm... Yes, you're right We must get to the battlefield as soon as possible No, there's something we need to do first Hmm? We can head to the battlefield However, I'm doubtful as to whether we should be taking this lot along with us What do you mean by that? I mean, if you're going to get under our feet You should just stay away That's how you see us, is it? Not you, Orojimaru You're fine But the others Then why don't you put them to the test? I intend to Very well, I'm in too It will do me good to move my limbs a bit before the battle Sarutobi, join us Let's all fight together It's been too long Understood Then it's decided Sasuke, Jugo, and Suigetsu Show them what you can do What? Why me? Karin's a healer You men are the combat specialists, aren't you? And where is this test to take place? Surely not here Don't be ridiculous We'll go to the place Hashirama and I used to use for training Ah, yes We shouldn't be disturbed here Good So The three of us have decided to test your strength as fighters If you fail to impress us Save the explanations Let's just do this Hey, hey Stop taunting them Suits me We don't have much time Impressive He's covering himself perfectly This should be fun Ok ragazzi Dovamo sconviggere i primi Okage Allora Vediamo un po' Le condizioni I dattai bonus Ok Si possono fare Va benissimo Iniziamo Noi tu vintiamo Sasuke ragazzi Non è una novità ma E' un D5 colpi Fatti What's the matter Lord Kashirama I just never thought I'd get another chance to fight together with you two I can't help but smile You really never change Although I must admit My heart's pounding in my chest If we end up passing this That means we have to fight in the war too, right? So if we go easy on them and end up losing Suigetsu I know I was just saying I swear I won't be easy on them It's over Kharol! Oh my god Spastor, Khandari! What is this? The other two aren't regular If we had more time I'd love to spar with each of them individually No, no, no No way Sui, ce l'ho fatta finalmente Prendi questo No, non a caso Anche l'aspetto It's over Ah Suo, mi deludi Benissimo Suo, questo sentimento Now then, vediamo cosa hai Oh, oh Ma che cosa? Ah, posso attaccarlo Perfetto Benissimo Benissimo Ahia Prendi lì Prendi lì Ah, un trezzo è male però. Benissimo. Siketsu! I knew it would be me! I won't be able to hold on forever! You go! Got it! Amaterasu! Not bad! Not bad! Wood style! Wood expulsion, Jutsu! Now, what will he be? Vai! Oh, però... Oh, per favor! Oh, per favor! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Sì, questo lo farà. Quindi, come facciamo? Penso che Madara sarà sorpreso di vedere che sia un poverso ninja che arrivano. In altre parole? Penso che questo significa che hai passato. Sì, ad esempio che sei più forte da che ho pensato. Wow! Ora, l'altro gruppo sta aspettando. Sì, qui! Sassu-che! Sassu-che! Sassu-che che stai aspettando. Come si è fatto? Oh sì, bravo! Ci siamo tutti fanno verso la battlefield. Hokage! È la prima volta. Sì, è la prima volta. Siamo iniziando a la parte delle immagini che hanno guardato la scena. Lasci il santo della vicenda essere improntata in nostri pensi. Siamo iniziando a la battaglia per la protegere. Sì, potrei vedere il mio figlio all'ultimo. Naruto, non potrei essere molto di un padre per te, quindi provo a cercare di farlo con te. Sto portando un grande prezzi con me. Non ho avuto una guerra in molto tempo. Mi piacerebbe mantenere i miei amici. Madara, ti farò una volta e per tutto. Lo vedo che è inappropriato, ma non riesco a farlo di vedere il mio vecchio amico. C'è sempre una guerra in questo mondo. Ma questo sarà l'ultimo guerra. Per battere! Avendo preso A è normale, perché ho cercato di prendere più oggetti, più bonus. Nuovo episodio sbloccato. Ora puoi accedere a anteprima prossimo capitolo. Cioè? Beh, ragazzi, visto che dura un minuto, io direi di farlo ora. Ok. Ho capito. Nuovo episodio sbloccato. Ora puoi giocare a il fronte unito. Benissimo. Ok. Possiamo accedere alla squadra delle note a sette. Ok. Allora, ragazzi, sinceramente, questo volevo parlarvi di riguardo verso il campo di battaglia. Allora, riguardo quella parte che all'inizio in cui dice che Karin aveva i capelli di color rosso e infatti non ha tutti i torti. Che si chiama Cuscina. E quindi proveniva dal clan Unzumaki. E questo non lo sapevo, ragazzi. Nel prossimo episodio farò vedere il grado S. Questo ve l'ho detto, però per ridirvelo. E nel prossimo capitolo faremo anche la squadra sette unita. La squadra sette si riunisce. Che giochi di parole. Ok, ragazzi. Io alla parte la termino qui. Se il video vi è piaciuto, 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 iscrivetevi al canale. Forum vi ringrazia e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.